ciao a tutti sono antonio bossone sono la viola ed insegno musica d'insieme per strumenti ad arco al conservatorio cima rosa di avellino sono qui grazie a questa bellissima iniziativa del live l'associazione italiana della viola che come con altri miei colleghi tramite dei brevi video intende trasmettere consigli ai giovani violisti che vogliono svolgere audizioni e concorsi sul repertorio lirico sinfonico a soli e passi orchestrali della viola oggi qui con me analizzeremo il solo di ma merlois ma merlois è una composizione di maurice ravelle che è stata scritta dapprima per pianoforte a quattro mani nel 1910 due anni dopo ravella la trascrive per orchestra aggiungendo un paio di brani come musica da balletto sono praticamente delle fiabbe da bambini trascritte in musica parliamo quindi di ravelle francia periodo impressionista sappiamo tutti che parte questa questa corrente con la pittura ma tutte le altre arti ne vengono coinvolte e tra queste anche la musica gli esponenti appunto dell'impressionismo francese nella musica sono ravelle e debbussi da prima loro non amano questa etichetta che gli viene appunto poi finalmente attribuita dopo la loro morte perché comunque le loro musiche sono state influenzate da questo movimento senza dubbio quindi musiche descrittive con molti colori eccetera eccetera parliamo quindi dell'ultimo brano il giardino fatato dove noi incontriamo questo solo per viola questo in questo brano che comincia molto lentamente con un canone di archi dall'inizio in maniera molto dolce una melodia molto dolce aumenta sempre di più sempre di più fino ad arrivare alla fine con dei grandissimi glissati di tutta l'orchestra e finisce conclude tutta la suite di ma merlo a ma merlo a tradotto in italiano e mamma oca detto questo possiamo andare ad affrontare il solo il solo è più o meno al centro del brano lo comincia prima il violino con i fiati con l'ottavino con gli strumentini molto alti molto avuto il solo di tutte e due gli strumenti subito dopo tre battute la viola entra esattamente all'ottava basa del violino e fa il solo insieme al violino dopodiché il violino finisce e la viola continua a fare il solo la seconda parte del solo insieme all'orchestra e la seconda parte molto avuta molto difficile per l'intonazione eccetera eccetera poi l'analizzeremo possiamo intanto ad andare ad analizzare la prima parte del solo siamo all'ottava bassa del violino quindi che cosa significa sappiamo tutti che quando ci sono all'ottava bassa l'ottava bassa è di riferimento e di supporto per l'ottava alta quindi inutile dire l'intonazione deve essere perfetta la dinamica e il tipo di suono e la qualità di suono devono fare da supporto al violino soprattutto per l'intonazione la difficoltà di questo primo solo e mettere la mano in quarta posizione perché noi dobbiamo andare a prendere un fa diesis col secondo dito quindi la difficoltà è mettere questo mi in quarta posizione per avere ok poi analizzeremo bene le deteggiature vuoi riaprire un capitolo sulla quarta posizione che insieme alla seconda sono fondamentali soprattutto per la viola purtroppo non si studiano bene come la prima e la terza ma andrebbero studiate bene anzi meglio come la prima e la terza anche la seconda la quarta perché perché la viola essendo uno strumento più grande del violino e le posizioni intermedie diventano fondamentali per arrivare alla terza si passa dalla seconda per arrivare alla quinta si passa per la quarta mentre col violino le distanze sono più brevi basta allungare un po si saltano due posizioni la viola essendo più grande ha fondamentale bisogno delle posizioni pare 2 4 6 quindi il consiglio che vi do studiate perfettamente la seconda e la quarta posizione come se non meglio della prima e la terza detto questo chiuso il capitolo dobbiamo andare in quarta posizione e quindi affrontare il fa diesis adesso piccolo indietro siamo in quarta quindi quarta quinta fa si la e di nuovo terzo dito indietro so fa mi adesso di nuovo sesta quarta sesta sola si ok siamo arrivati qui un altro consiglio tra parentesi che vi voglio dare ogni volta che suonate soprattutto questo passo dove l'intonazione la fa veramente dalla padrona cantate mentre suonate cantatevi il suono sembra una banalità ma non lo è cantare vi aiuta moltissimo a trovare l'intonazione sulla tastiera i salti ok re mi dobbiamo fare re mi fa sola si si do re mi fa sola si ok quindi non sottovalutate il canto detto questo appunto adesso nella seconda parte del solo dopo che siamo arrivati fa so mi fa si la so fa mi mi fa sola si adesso sostituzione andiamo in settima si do re questa è lunga e lontano re diesis si do re mi fa sola si sostituzione ancora si adesso minore si do re mi fa sola si e siamo arrivati ok inutile dire che l'intonazione deve essere perfetta perché una intonazione perfetta darà un bel suono se l'intonazione non è perfetta il suono non potrà essere bello le cose vanno di pari passo quindi allora ricapitolando si do re mi fa sola si si la si ok vedrete che io non non seguirò le legature e che che scrive ravelle perché sono un po strette questo solo va affrontato diciamo in maniera importante non può essere piano pianissimo come scritto lui scrive pianissimo però l'orchestra suona molto forte cioè sono molto forte molto importante in quel momento quindi la viola deve uscire come solista quindi tenete diciamo tra virgolette il piano e pianissimo quindi una tacchetta sopra e suono solistico quindi bene alla al ponticello senza spingere perché il suono deve essere al violino come abbiamo sentito al sole col violino per cui la viola poi sapete che può suonare al violoncello nelle note basse e al violino essendo uno strumento intermedio in questo solo deve suonare come il violino quindi detto questo altro consiglio che vi posso dare e che vedrete nella nell'esecuzione che per per evitare di fare re mi questo salto che è molto alto che molto lungo molto lontano di settima possiamo ovviare facendo la posizione fissa rimanendo in posizione ovviamente a me piace più questo però è un rischio molto alto perché se quando si è lì in audizione in concorso o sulla sedia di prima viola qui vi assicuro che mi fa la sola si è molto complicato bisogna essere molto ferrati ha bisogno di uno studio molto 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 approfondito però è la posizione che vi consiglio viceversa se c'è un po di tensione che non ve la sentite si può optare a fare sì mi posizione mi fa piccolo indietro con estensione indietro del primo dito andiamo in settima scuola e scusate in sesta sola si si do adesso minore sol va una posizione indietro scuola sì e siamo arrivati si lasi ok ve lo ricapitolo fa so mi fa di la so fa mi so la si adesso sostituzione settima posizione si do re sulla sesta altezza mi fa sol diesis indietro so la si di nuovo si do re mi fa so la si si la si e siamo arrivati scegliete voi quale più vi piace quale più è alla vostra dimensione portata di mano di esecuzione e soprattutto per fare questa seconda seconda posizione seconda alternativa bisogna che lo strumento sia molto omogeneo perché quando noi faremo si do re mi sulla stessa corda avremo meno problemi diciamo di omogeneità perché la corda è la stessa ma si si potrebbe chiudere qui in settima posizione sulla seconda volta quindi se lo strumento ve lo permette ve lo consiglio e lo potete fare questo vi potete registrare lo potete appurare altrimenti bisogna studiare re mi e lo studiate cantando mi ripeto ma è una cosa molto importante cantate re mi fa so la si ok spero di esservi d'aiuto vi lascio all'ascolto del solo nelle due versioni la posizione sulla prima corda con la discesa sulla prima corda e la posizione fissa sulla settima posizione in seconda corda spero di esservi stato d'aiuto vi auguro tutto il bene e di raggiungere i vostri sogni grazie ora farò la versione in posizione fissa senza scendere sulla prima corda con un piccolo arretramento del primo dito grazie 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 ecco scegliete voi qual più vi piace grazie a presto grazie 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 grazie